Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel romanzo storico intitolato La maledizione di Bashar di Marcella Nardi che è nostra gradita ospite e io ne approfitto anche per dirvi che lo potete trovare su Amazon, costa 12,50 euro, quindi vale la pena affrontare questa enorme spesa e come mia abitudine non rubo altro tempo all'autrice e le lascio subito la parola perché ci parli di questa maledizione. Prego Marcella, a te. Grazie Marizia. Una cosa volevo aggiungere prima di partire col romanzo, che siccome Amazon è distributore librario in Italia e questo lo so, lo ho anche verificato per certo con tanti amici, chi ama il cartaceo può anche ordinarlo in una libreria tranquillamente, però esiste anche l'ebook, ci sono ormai gli amanti degli ebook che o per spazio in casa o per altre ragioni vogliono l'ebook. Allora io innanzitutto faccio vedere la copertina, dimmi se si vede. Sì, sì sì, ma poi si vedrà nel video montato. Allora io, tu lo sai, sono una grande amante della storia antica ma in prevalenza di tutto il periodo del Medioevo e perché, a dispetto di tanti, il Medioevo è stata una grande fucina di idee, la preparazione a quello che è stato poi il periodo moderno, quindi la nostra attuale civiltà che apre e chiude una parentesi giusto per fare una battuta, non so se si è migliorata o peggiorata nel corso dei secoli. Chiudiamo la parentesi di battuta. Com'è nato questo romanzo? Innanzitutto il romanzo comincia nel 1100, quindi siamo a cavallo tra la prima e la seconda crociata. Il periodo delle crociate è uno di quei momenti storici dei mille anni di Medioevo che personalmente mi intriga molto. Non è l'unico periodo, diciamo, intrigante, ma mi intriga parecchio. Per una serie di aspetti, innanzitutto perché all'inizio infatti il prologo del mio romanzo comincia in maniera, molti hanno detto accattivante, ma direi anche cruda, perché purtroppo quando ci fu l'attacco a Gerusalemme da parte dei cavalieri cristiani, i cavalieri cristiani operarono una vera carneficina, uccidendo, senza guardare nessuno, anche vecchi, bambini, donne, eccetera, eccetera. E infatti la moderna storiografia sta molto rivedendo, diciamo, anche i cavalieri templari. Si stanno facendo numerosi studi su quello che è stato il loro vero apporto in quel periodo. Quindi anche, diciamo, i cavalieri templari, di cui in parte parlo nel romanzo, è un altro argomento che mi intriga parecchio. Un altro aspetto che c'è sempre nel romanzo è quello del, che è un aspetto anche questo diciamo discretamente, anzi molto negativo, è il commercio delle reliquie sacre, che era già iniziato decisamente prima delle crociate, ma con le crociate questo fenomeno è proprio dilagato in tutta l'Europa. Quindi non solo nell'Italia, dove c'era il cuore della cristianità, ma anche nel resto dell'Europa, fino anche al nord, quindi Inghilterra, i paesi scandinavi, eccetera. E il commercio delle reliquie è interessante sotto certi aspetti, perché, per esempio, come parlo anch'io nel romanzo, una delle reliquie sicuramente le più importanti è quella della vera croce di Gesù. E vari storici hanno detto, ma quanto grande doveva essere questa croce su cui fu crocifisso Cristo per poter avere tanti pezzi di reliquie vendute in tutta l'Europa per tanto tempo, per secoli interi. Quindi, diciamo, io non solo, ma sulle reliquie un altro aspetto, diciamo, interessante, soprattutto in un forte periodo in cui c'era una grande commistione tra superstizione, timore religioso e poi facilmente il popolo veniva imbonito, era facile, ancora più facile di oggi, imbonire, c'erano proprio per tenere attaccati al commercio delle sacre reliquie, ma nello stesso tempo per far sì di non investigare troppo sulla natura di queste reliquie, che ovviamente erano tutti dei falsi, c'erano tante superstizioni del tipo non toccate la reliquia perché altrimenti le mani vi si bruciano, cioè c'erano tante tante voci che andavano di moda in quei secoli, in quel periodo. Quindi, diciamo, io ho creato questa maledizione di Bashar partendo da un substrato storico reale e alcuni personaggi che cito sono reali proprio, veramente esistiti, però romanzo quasi tutto e comunque la storia di questa reliquia che è un pezzo della vera croce di Gesù è storia inventata, anche se comunque non è inventato il fatto che durante il Medioevo c'erano tante persone che propinavano, vendevano, andavano nei monasteri, nelle chiese a vendere pezzi della croce di Gesù. Nella mia versione, diciamo, di complottistica, eccetera, insomma, di questa reliquia, non posso dire troppo perché altrimenti voi faccio spoiler, perché diciamo questa reliquia comunque viaggia attraverso i secoli e il romanzo si conclude nel 2005 a Londra con un fatto reale anche quello, perché a me piace molto scoprire zone d'ombra di fatti reali storici e nelle zone d'ombra mettere la mia parte di trama e quindi questa reliquia, posso solo dire che quando comincia il romanzo nel 1100, questa reliquia viene, che era custodita a Gerusalemme proprio, nella famosissima chiesa del Santo Sepolcro, viene dai cavalieri templari, viene ucciso barbaramente la persona che custodiva questa reliquia e da quel momento succede un fatto e questa reliquia viaggia nei secoli diffondendo morte e poi si conclude nel 2005 in un modo dove per pura coincidenza io sapevo dei fatti che non c'entrava niente con questo libro, successi a Londra nel 2005 proprio e quindi il mio romanzo finisce nel 2005. Una cosa che mi ha divertito anche fare, ho messo un fatto che accenno solo senza dire qual è, ovviamente chi è molto addentro a queste cose può immaginarlo, il penultimo capitolo prima dell'epilogo del 2005 si svolge invece nel 1888 per una ragione ben precisa e quindi ecco questo è un po' e nel nel romanzo c'è molta parte di giallo vero e proprio ma poi c'è una parte di mistero anche e è la cosa che diciamo mi piace anche, ho studiato per questo romanzo, ho approfondito tutta una serie di altri temi che io non conoscevo anche perché per quanto uno possa essere appassionato a certi periodi storici però non è che possa sapere tutto ovviamente e allora ho cercato di studiare meglio la differenza tra i balivi, gli sceriffi, quando è nato lo sceriffo? Io non sapevo che fosse nato per finanziare una parte del riscatto del re di allora che gli erano gli era stato rapito suo fratello in terra santa ritorno dalla terra santa delle crociate ed era nata una legge particolare in Inghilterra proprio per questa ragione nascono gli sceriffi il potere dei balivi viene aumentato e poi c'erano i riv insomma e tutte queste figure che si intersecano la nascita dei fuori legge gli outlaw che erano veramente i fuori legge io non lo sapevo esattamente io sapevo semplicemente come penso la maggior parte della gente pensa il fuori legge un criminale punto e basta e no invece fuori legge erano dei criminali particolari che facevano delle particolari cose e se entro cinque giorni da quando venivano affissi diciamo quelli che nel far west erano i wanted non si presentavano venivano dichiati fuori legge e potevano essere uccisi a vista e la testa come i lupi portati allo sceriffo e si avevano dei soldi quindi ho anche studiato tutta una serie di cose e che diciamo molto interessanti sia dal mio punto di vista e spero anche che interessino nell'ambito della trama dello svolgimento della trama anche il lettore marcella si è un romanzo quindi che si dipana nei secoli tu sei il percorso che fa questa reliquia da quando viene trafugata a Gerusalemme fino all'epilogo che non svegliamo il cuore del romanzo si svolge nel medioevo quindi abbiamo il mille cento mille duecento erotti poi mille trecento erotti poi non è che potevo scrivere un romanzo di settecento pagine e quindi io ho finito nel mille trecento erotti e poi che il cuore del romanzo appunto il settanta per cento si svolge in questi in questi periodi di medioevo e poi c'è appunto il capitolo del 1888 e poi l'ultimo l'epilogo del 2005 chi è voglia di scoprire qual è l'epilogo uno secondo me che compra questo romanzo comincia a leggerlo dalla fine ci sono molti che che fanno così eh perché secondo me questo è vero perché l'ho sentito però secondo me veramente è togliersi il piacere del gusto di leggere un libro vai dalla fine anche perché diciamo io termino posso solo dire una frase dell'ultimo capitolo che dico finalmente il cerchio si è chiuso anche se finisce con Londra quindi non con Gerusalemme ma c'è una ripeto una ragione ben precisa eh che eh tra l'altro l'epilogo è un capitolo brevissimo sono meno di due pagine in un formato standard normale di insomma di stampato di questo romanzo ecco eh bisogna comprarlo se poco allora io normalmente quando eh realizzo scrivo un libro anche se io sono un'autrice indipendente però a me piace fare gli stessi passi che si seguono in maniera seria quando un serio una seria casa editrice perché purtroppo con da quando eh il mondo digitale si è con internet diffuso ampiamente ci sono due miliardi di case editrici che alla fine sono eh non sono serie non sono case editrici sono giusto stamperie e digitali punto e basta eh ma a me piace seguire un percorso serio allora ho una persona che mi fa i diti professionale che mi segue da cinque sei anni eh che eh mi segue sia durante la fase di scrittura del romanzo onde editare che perché è normale per uno scrittore che tu hai in testa capitolo per capitolo di dire certe cose però poi magari le dici in maniera sbagliata oppure alcune volte i tempi non combaciano non te ne rendi conto c'è bisogno di una persona eh diciamo che dall'esterno legge in maniera da lettore ma in maniera approfondita e quindi e poi finito il romanzo ci sono quattro riletture approfondite eh tra l'altro la mia editor eh siccome non è un'esperta di medioevo anche lei eh ogni volta che leggeva delle cose che io scriveva che lei non sapeva non che non credesse a quello che io avevo ricercato e trovato ma se le andate a a leggere a trovare anche lei eh addirittura alcune volte non avendo le viste eh trovate su internet è andata persino alla biblioteca comunale mi ha detto per effettivamente trovare le cose ehm e quindi diciamo che devo dire che io sono particolarmente affezionata ai miei romanzi storici eh quello precedente si chiama Joshua e la confraternita dell'arca e che quello eh parte lì invece eh l'espediente e ho studiato la vita eh ho cominciato con lo studiare la vita degli apostoli e ho trovato un apostolo particolare la cui vita è è stata molto particolare e quindi ho creato due misteri uno prima nella nei suoi avi e uno dopo eh ho studiato le tutte le profezie della storia eh ho studiato la vita di molti papi eh anche di quelli recenti eh ho studiato e eh il libro è dedicato a Papa Francesco che io pur essendo agnostica eh amo come persona quindi e anche lì conclude il romanzo con un fatto reale avvenuto nel duemilai tredici ehm tra Papa Francesco e un suo grande amico che è il rabbino il rabbino capo nella della congregazione statunitense degli ebrei e si conclude anche lì in una maniera particolare ecco quindi questo libro eh diciamo secondo me vabbè uno può dire che tu lo dici perché l'hai scritto e quindi il fatto di dire compratelo compratelo eh eh e anche di parte però eh diciamo io eh non scrivo per vivere io scrivo per grande passione eh diciamo che fin da bambina io sono nata come lettrice accanita fin da quando ero piccolissima io ho chiesto a mia mamma quando avevo tre anni e mezzo di insegnarmi quei simboli strani cioè la scrittura eh ho cominciato a leggere anche le enciclopedie proprio prima ancora di andare a scuola eh poi eh ho cominciato quando ero relativamente piccola ma comunque in età scolastica andavo all'epoca non c'era internet andavo quindi in biblioteca comunale e mi sono ho cominciato a leggere quelle che allora si sapeva le dinastie egizie poi le scoperte precolombiane poi molti libri sul medioevo e lì eh sul medioevo il mio cuore è stato completamente diciamo rapito eh devo confessare che fino a poco tempo fa non ero molto eh attratta dalla storia moderna cioè a partire dal millenovecento quindi le due guerre tutto quello che è successo grazie a un autore fantastico che è Ken Follett che io adoro con la trilogia invece del ventesimo secolo mi sto appassionando anche eh ai fatti diciamo del 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 ventesimo secolo che è stato un secolo particolare quindi diciamo che io eh scrivo per questa anche eh ho scritto il mio primo romanzo mai pubblicato eh che avevo otto anni era un romanzo breve era di una quarantina di pagine sai i quaderni che si usavano all'epoca i quaderni di scuola una quarantina di pagine un po' scrivevo piccolino insomma quaranta pagine non erano poche per ed era quando poi più di una ventina d'anni dopo lessi per la prima volta sempre di Ken Follett eh il romanzo che si chiamava il terzo giamello io rimasi impressionata perché il mio romanzo poteva essere una buona sintesi del romanzo di Ken Follett tieni presente che quando io lo scrissi Ken Follett non l'aveva ancora scritto per nulla quel romanzo quindi non si può nemmeno dire che io in qualche modo l'avessi letto. Quindi diciamo la mia passione per la scrittura c'è sempre stata eh ho cominciato di fatto seriamente a scrivere dopo la morte di mio padre che è stato l'evento trigger che per me proprio mi ha e come ricordi proprio nel 2011 che sono ritornata a Milano eh all'inizio ho scritto racconti ho cominciato a scrivere racconti quasi tutti ambientati nel medioevo quindi storici però sempre con l'impronta del giallo infatti quando venne a Milano nel 2011 per la premazione di Filoglion eh era eh la versione resa gialla eh della storia di Paolo e Francesca eh che quando la studia a scuola mi era rimasta proprio qui quindi niente per quanto riguarda questo romanzo eh eh vi posso vabbè tu metterai anche delle le annotazioni eh posso dire brevemente allora quando io scrivo le mie sinossi eh io le scrivo sempre per punti e brevi eh perché ho scoperto che eh diciamo al lettore le sinossi troppo lunghe non non interessano e mi piace stimolare il lettore e quindi eh di che cosa si parla nel romanzo? C'è una reliquia maledetta un segreto da nascondere eh la devozione si parla della devozione dei templari di questa fantomatica figura dei templari riveduti che eh in questi ultimi anni e c'è un feroce assassino che viaggia nei secoli eh il romanzo inizia nel millecento con la caduta di ehm vi leggo quello proprio che ho scritto nella quarta di copertina proprio sono solo qualche riga quindi luglio millecento Gerusalemme viene ferocemente saccheggiata dai cavalieri cristiani in mezzo al caos dalla chiesa del santo sepolcro sparisce una preziosa reliquia è un frammento della vera croce presumibilmente macchiata del sangue di Cristo sul sacro reperto l'ombra di una terribile maledizione chiunque la tocchi subirà una morte prematura e raccapricciante inizia così attraverso il tempo e i secoli il suo lungo pre eh peregrinare di mano in mano lasciando dietro di sé una lunga scia di sangue finché il cerchio si chiuderà nel 2005. Ecco questo è eh un po' la quello che la sintesi insomma del del romanzo. Bene dai allora io ricordo il titolo ma è anche abbastanza semplice perché si intitola la maledizione di Bashar che era il custode no? Ecco questa cosa la posso dire giusto per dare qualche flash eh questo nome è basciare per chi se ne intende eh è un nome di sapore arabo quindi non è un nome eh che possa far parte della cristianità europea ma perché perché realmente a quell'epoca quindi eh prima del e questa è storia vera prima eh della del diciamo delle del periodo delle crociate effettivamente cristiani e musulmani ed ebrei vivevano abbastanza bene e infatti anche la chiesa del santo sepolcro era era diciamo eh controllata amministrata dalle tre grandi religioni e questa reliquia nella mia storia il custode era proprio una famiglia già da secoli una famiglia musulmana eh per questo si chiama Bashar e quindi ricordo il titolo la maledizione di Bashar l'autrice è Marcella Anardi che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite potete trovarlo e acquistarlo su Amazon sia in formato cartaceo che in formato digitale sono trecentotrentaquattro pagine per dodici euro e cinquanta la versione cartaceo ovviamente e io ve la consiglio come lettura rilassante pre natalizia no sangue uccisioni e maledizioni varie e con Natale vanno benissimo secondo me sono perfetti però ci sono molti scorci anche di come si mangiava nelle locande nel medioevo no sicuramente adesso sto scherzando per far su su due risate Marcella ti ringrazio tantissimo ti lascio ai tuoi Stati Uniti visto che adesso sei laggiù da tempo ormai saluti alla mia Milano anche se io non sono di Milano ma ci ho vissuto ventidue anni e per me è la città che mi è rimasta eh in Italia una velocità del del cuore insomma per me va bene grazie mentre ai nostri videoascoltatori ricordo di seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove potranno trovare anche molte delle video presentazioni che abbiamo realizzato finora grazie ancora Marcella e a presto grazie La ruse di me, la ruse di me, la ruse di me, la ruse di me.